La tutela dell'ambiente è forse uno degli snodi per il benessere delle persone, perché? Per ovvie ragioni, perché noi dipendiamo dall'ambiente in cui viviamo. Non è solo un problema di evoluzione, l'uomo è una creatura, una specie, ma anche perché respiriamo l'aria che ha una sua qualità, ci alimentiamo, beviamo acqua potabile. Se non abbiamo cura delle condizioni dell'ambiente, lo degradiamo, lo contaminiamo, in ultima analisi noi siamo gli utenti finali di questi servizi ecosistemici. L'ambiente fornisce una quantità di beni e servizi straordinari, l'aria che respiriamo, ad esempio la potabilizzazione dell'acqua in via naturale. Questi indicatori di benessere servono proprio a misurare quanto a livello italiano e regionale effettivamente le politiche in essere ci permettono una migliore qualità della vita.